Esame chimico-fisico di un apporto Nuove manifestazioni medianiche cerchio e seno Tra le attività fino ad ora concluse ritengo che la più significativa sia stata quella relativa all'indagine eseguita su un apporto, una medaglia ebraica donata a mia madre nel corso di una seduta. Tale apporto apparteneva ad una persona conosciuta da mia madre durante la sua infanzia che è stata poi uccisa dai nazisti nella seconda guerra mondiale e che rispondeva al nome di Anna C. Il fenomeno è stato eseguito da Alexander e incaricato dalla stessa Anna di portare quel dono a lei tanto caro e solo in quella particolare occasione mia madre ha ricordato alcuni episodi che l'avevano legata per un brevissimo periodo della sua vita ad una sconosciuta signora ebrea a cui aveva regalato qualche parola di conforto. L'episodio offre la possibilità di fare due considerazioni di non poca importanza. Nessuno dei partecipanti era al corrente dei fatti accaduti molti anni prima. Mia madre stessa non ricordava tali fatti fino al momento in cui ha ricevuto l'apporto ed Alexander non ha fornito delle spiegazioni ad esso inerenti. Nonostante ciò l'oggetto è stato sottoposto ad un'analisi morfo-strutturale e chimica utilizzando un microscopio elettronico a scansione SEM accoppiato con microsonda XEDS ed una analisi fasica e strutturale XRD. I risultati ottenuti forniscono una prova scientifica senza precedenti della veridicità del fenomeno dell'apporto e della sua validità. Ritengo utile a questo punto, a beneficio di coloro i quali non hanno avuto ancora l'opportunità di leggere il primo libro del cerchio e seno dove gli esami eseguiti sul medaglione vengono riportati in allegato, fare una sintesi di quanto emerso ed un minimo di considerazioni. Di seguito, a beneficio di tutti, ritengo estremamente utile fare delle precisazioni e dare delle informazioni che non sono state inserite nel libro, sia perché non strettamente di natura tecnica, sia perché postume alla sua pubblicazione. Attraverso le tecniche applicate è stato determinato che l'oggetto risulta costituito principalmente da piombo, nichel ed oro. Sono presenti inoltre cobalto, cloro, palladio ed alcune terre rare, come l'afnio. Ora, a parte la presenza di alcuni elementi, cobalto, oro, afnio, palladio, che non hanno senso d'essere all'interno di un oggetto di questo tipo, né naturalmente né artificialmente, aggiunte in fase di fusione, non si spiega la presenza del cloro che, anche se aggiunto artificialmente e non se ne vede la ragione, non potrebbe permanere all'interno dell'oggetto alle temperature di fusione normalmente impiegate. Le due facce dell'oggetto sono differentemente costituite in relazione agli elementi presenti e alla sua morfologia. Ciò sarebbe giustificato solo nel caso di due singole facce, indipendentemente preformate e successivamente accoppiate fra di loro, a mezzo di saldatura. L'analisi morfologica eseguita esclude categoricamente tale ipotesi. L'oro è presente, non per bagno chimico, bensì in legame con il nickel. La mappatura metallografica eseguita, però, lascia intravedere ampie zone di asporto, come se solo alcuni atomi di oro fossero stati rimossi, senza toccare minimamente quelli del nickel, oppure come se atomi di oro fossero stati posti all'interno dell'oggetto in una fase successiva alla sua formazione legati insieme a qualche atomo di nickel. Entrambe le possibilità sono da escludersi, non essendo ancora disponibili tecniche così raffinate. L'oggetto risulta aver subito un forte shock energetico, paragonabile forse ad un evento nucleare. Tale shock ha stressato i legami esistenti tra atomo e atomo, in particolare quelli del piombo, dove non risulta la presenza di reticoli cristallini. Essendo il piombo monomerico, l'oggetto non dovrebbe poter mantenere l'attuale forma, a meno dell'esistenza di legami chimici particolari, oggi non conosciuti. La distribuzione chimica globale degli elementi presenti, costituenti l'oggetto, è in contrasto con le attuali leggi chimiche note. Tengo a precisare che l'indagine è stata da me seguita, ma effettuata nella sua totalità da un fisico, esperto delle apparecchiature e dei metodi analitici che il caso richiedeva. Il mio collaboratore era del tutto all'oscuro sia della provenienza dell'oggetto che delle motivazioni che hanno indotto a sottoporlo a prove specifiche. Ciò si è reso necessario per due motivi fondamentali. Evitare ogni possibilità da parte mia, anche involontaria, di addomesticare in qualche modo i risultati. Evitare da parte dell'operatore il rifiuto di eseguire l'indagine o di un addomesticamento dei risultati in senso inverso rispetto al punto precedente, avendo questi una mentalità estremamente scientifica e razionale. Ed è proprio per questa sua razionalità che nel corso dell'indagine il mio collaboratore, trovandosi di fronte ad una situazione inspiegabile dal punto di vista scientifico, ripete con scrupolosità quasi tutti i test. Molti di essi sono stati ripetuti per tre volte, fornendo ogni volta il medesimo risultato. Alla fine egli mi chiese con evidente imbarazzo ma cosa hanno fatto a questo medaglione? Così com'è non potrebbe esistere. Ancora oggi egli non sa cosa sia successo veramente e credo che a meno che non leghe il libro non lo saprà mai. Alexander successivamente nel corso di una seduta ci informò che l'apporto della medaglia fu da lui eseguito in modo anomalo nelle sue fasi conclusive appunto per creare qualcosa di strano. Ciò faceva parte di un preciso disegno voluto dalle entità mirato a dare una prova mai da loro per la verità richiesta ma fortemente voluta che potesse fornire validi elementi scientifici quali quelli che in realtà ha fornito. Non pretendo che quanto detto e fatto costituisca una prova risolutiva per tutti colui che crede non ha bisogno di prove. Parimenti qualsiasi prova anche scientifica ed ineccepibile può risultare insufficiente agli occhi di uno scettico convinto. Ma gli indecisi coloro che da una parte propendono per tali tematiche e dall'altra le rifiutano evitando di prendere delle posizioni precise forse possono essere indotti ad una seria riflessione. Personalmente credo che se lo sforzo fatto inducesse anche uno solo di loro a guardare al di là di quel famoso dito allora avrei assolto almeno in parte il compito assegnatomi io fiducia che ciò avvenga ingegnere Mauro Galvagno Iscriviti al nostro corso